Ogni anno in Italia l'inquinamento atmosferico è responsabile della morte di 59 mila persone. Oltre a questi danni l'inquinamento atmosferico causa anche le patologie cardiovascolari e respiratorie. L'inquinamento atmosferico è causa anche del cambiamento climatico in atto. I fenomeni meteorologici diventano ogni anno più violenti e più improvvisi, sono più difficili da prevedere. La politica ha una grande responsabilità nel cambiare la tendenza. Noi abbiamo preso un impegno a Parigi di contenere il riscaldamento globale e la Norvegia su questo si è già impegnata e ci fa vedere una strada che è percorribile, che dà già dei risultati molto concreti. Il 20% degli abitanti della Norvegia ha un'auto elettrica. Noi abbiamo semplicemente preso quello che già funziona in un altro paese e cerchiamo di replicarlo nel nostro. Abbiamo presentato una proposta di legge per incentivare e promuovere l'uso dei veicoli elettrici. Questa proposta si basa su due pilastri. Da una parte i punti di ricarica elettrica che devono essere diffusi, quindi obblighiamo i concessionari di stazioni di rifornimento a fornire dei punti di ricarica. Dall'altra parte abbiamo incentivato l'utilizzo dei veicoli e il loro acquisto, con uno sconto del 20% sull'acquisto e degli incentivi anche economici. Non pagheranno il pedaggio autostradale, non pagheranno per 10 anni i parcheggi, non pagheranno l'accesso alla ZTL. Per migliorare questa proposta di legge abbiamo bisogno dei vostri contributi, dei vostri suggerimenti, quindi vi aspettiamo sull'ex, partecipate numerosi.